Buongiorno Buongiorno C'è un giovanotto, eh? Ciao, tu chi sei? Si sei alto quasi come me E tu come ti chiami? Brian? Ciao, tu come ti chiami? Osvaldo Che bello Adesso io vengo nella tua casa, sai? Eh? Vieni, andiamo Che bello Comincia la mia osservazione Cristabel sta preparando il pranzo Ma noto che c'è manto Kevin viene chiamato In continuazione Cristobrian continua a fare Cap cap e disastri William appare molto irrequieto Allunga la mano verso il cuore Ma la mamma non glielo dà Ha otto mesi, ha già l'età Per cominciare a scopare da solo E quindi sarebbe bene Che la mamma Desse al bambino Una ciotola per sperimentare Questa attività Questa attività Questa attività Questa attività Questa attività